Dove la natura regna sovrana, ti balanze. Allora nacquo in questo rio, no, fantastico, però io nel rio uno spesso incontravo delle racazze così e mi allungavo qua nei camandoli perché qua c'erano i posti veramente a livello. Quindi ho dei bei ricordi di questo Piale della Rai, no? Allora nel Piale della Rai, sai negli anni Ottanta ero, vogliono io, sono un grande, negli anni Ottanta non ci portavano le macchine tipo quella che stanno con la Smart, tre lastre, la Micra, c'erano automobili più a un certo livello diciamo. Parcheggiamo là, è il posto giusto per chi moria, stappora, tanta donce, stappora, siamo io e te, in questa 127 L, tutta la pezzata di giornali. Non c'è la nostra, ma è buona, puro parca di me, stasera si è creata l'atmosfera giusta, quando ora c'è il tuo papagio che, che ti piace tanto pure a te. Non c'è la nostra, ma è buona, ma è buona, puro parca di giornalistri. Mi distrutti gli ammortizzatori, fammi stare quieto per pietà. Fatti un po' più in là, tengo freno, ma mi dice parlami, Dimmi che mi ami, ma tu insisti sempre più, e io non ce la faccio più. Tu, stai facendo tutta nostra, tu, 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 A questo punto devo fare un'avvertenza. Allora, siccome questo brano parla degli anni 90 quando io ero giovane, allora all'epoca scrissi questa quartina finale, questa strofa che dice... Ma che donna sei... Allora, questa è roba vecchia di molti anni fa. No, ultimamente nelle feste la gente comincia a fare... Io mi sfrutti per questo, ma venti anni fa ce la faccio. Poi ho abbassato un po' il tono. Comunque stasera vi canto la vecchia versione originale degli anni 80, va. Ma che donna sei... Ecco che stasera ma trenta sei... Tu sapeva? Vabbè, vi faccio la versione quella là del 1995, qualche anno dopo. Ma che donna sei... Ecco che stasera ma venti sei... Poi nel 2000 ho fatto il remix, un po' più... Ma che donna sei... Ecco che stasera ma sei... Un'altra versione moderna, attuale, del 2010, cioè... Ecco che stasera ma trenta sei... A doio... A mezzo... Un applauso alla memoria... A parco dell'amore, eh? Poi da Dione Alto sono passato a Fuorigrotta perché su internet girano delle strane leggende metropolitane. Chi dice che tengo tre lauree, chi dice che ne tengo quattro. Invece io modestamente mi sono tipo vada la gusto di chi ha Fuorigrotta. E basta.